Eccoci qua, benvenuti a questa nuova apertura delle figurine del giurità. Allora, vediamo oggi che è l'ultimo giorno, se siamo fortunati riusciamo a rupire a trovare D'Abbiano Caruso. Questo qua è l'album. Che numero è? Ok, sì, quello è l'album. Damiano, che numero è? L'album. Damiano è... E qua, aspettate, che è questo. Eccola qua, numero? Novantasei! Dai! Dai! Proviamo? Proviamo! Adesso lo facciamo anche a te. B, M, C, B, M, C. Le hai già perso? Tutte e due? B, M, C. Le vediamo però. B, M, C, B, M, C, B, M, C, B, M, C, B, M, C. Vediamo un po'. Eeeeh... no! Sunweb cos'è? Chi è? Carta speciale. Carta speciale? Sunweb. Astana. Astana. Una carta storica. Una carta storica. Ed è poi cos'è? Della Mitchelton. Chi è? Della Mitchelton. Che è uscito? Tuff! Tuff! E vabbè, niente, continueremo. E non vediamo niente.